Ciao e benvenuto nel mio canale YouTube a quale ti invito ad iscriverti per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti che farò su un post al sole ma anche su tanto altro ancora. In questo periodo stiamo vedendo un genio in una versione inedita, veramente un genio come non abbiamo mai visto e questo dopo che ha scoperto il tradimento di Viola. Per tanti mesi abbiamo visto le varie crisi che ci sono state tra Eugenio e Viola possiamo dire che Viola era quella che era più in crisi tra i due, quella che era più lontana e questo perché? Perché ha cominciato a sentire un qualcosa per Damiano. Inizialmente questo sentimento che stava nascendo è riuscita a tenere la bada però alla fine non ha resistito e si è arrivato al punto del tradimento vero e proprio. Eugenio quindi si è ritrovato con sua moglie che l'ha tradito ma anche con il suo amico Damiano che lo ha tradito, quindi doppio tradimento e quindi doppia batosta. Inizialmente quando c'è stato questo tradimento Viola e Damiano non si sono visti per un po' di tempo però è durata poco la cosa perché hanno ricominciato subito a rifrequentarsi e a un certo punto Viola ha anche detto a Damiano di voler parlare, raccontare tutta la verità a suo marito. Damiano però le ha chiesto un attimino di aspettare, di aspettare che terminasse la sua missione sotto copertura però Eugenio li ha anticipati perché Eugenio ha capito tutto e l'ha capito quando ha visto Viola in ospedale che stava consolando Damiano e l'ha visto che gli ha dato una carezza e da lì ha capito che aveva davanti agli occhi da sempre, insomma da molto tempo una certa situazione che prima praticamente non vedeva però ora invece lì è tutto chiaro e da lì ha capito che tra Damiano e sua moglie Viola c'è un qualcosa e riprecorrendo un po' gli avvenimenti che ci sono stati, gli eventi che ci sono stati in ultimi mesi Eugenio praticamente non ha più dubbi e così decide di anticipare Viola, decide di mettere alle strette Viola dicendogli appunto che lui insomma in questi mesi si era reso conto che lei si stava allontanando parecchio da lui e che non c'era un motivo preciso per questa crisi che c'era tra i due ma c'era in realtà una persona e quella persona era Damiano e Viola davanti a queste parole non può fare altro che confermare tutto quanto e confessare il tradimento Viola poi insomma dirà ad Eugenio che lei ha cercato per tanto tempo di non dare retta a questo sentimento e cercato di soffocarlo però non c'era uscita e si è arrivata appunto al tradimento e qui stiamo vedendo da questo momento stiamo vedendo un Eugenio completamente diverso sembra veramente un'altra persona e l'abbiamo visto quando è incontrato in procura Damiano Damiano che in quel momento non sapeva che Eugenio sapeva tutto e Damiano comunque stava parlando di lavoro tranquillamente come sempre a un certo punto le appoggia la mano sulla spalla ma Damiano gli dice, ma Eugenio gli dice assolutamente di togliere via quella mano e ritira un pugno in faccia e quindi questo già è un gesto inusuale per un personaggio come Eugenio veramente un gesto anomalo tant'è che siamo rimasti molto sorpresi da questa reazione e però le reazioni di Eugenio stanno continuando a stupirci perché c'è stata anche una litigata con Viola Viola che ha chiamato Eugenio per parlare e le ha chiesto di parlare insieme a lei a loro figlio, ad Antonio per spiegargli la situazione che si è creata cioè che i due vivono già in due appartamenti diversi spiegandogli appunto i motivi per cui c'è questa separazione in corso però Eugenio non ne vuole sapere Eugenio gli dice il casino l'hai combinato tu e adesso con Antonio ci parli tu io non lo voglio sapere anche perché sei stata tu a creare questa situazione tu prima ci siamo lasciati poi sei tornata poi adesso mi rilasci di nuovo cioè praticamente hai fatto tutto tu come se io praticamente io non ho messo voce in capitolo e quindi la situazione adesso con il nostro figlio te la sbrighi tu e inoltre Eugenio l'abbiamo visto veramente arrabbiato nero ha dato addosso a Viola come non l'abbiamo mai visto e le ha anche rinfacciato il fatto che Viola per tantissimo tempo l'ha sempre aggredito l'ha sempre imposto come regola per rimanere insieme di cambiare il suo lavoro cioè di non occuparsi più di fatti tipo di camorra insomma quindi di cercare di fare di ridimensionare il lavoro per essere più libero e quindi stare ovviamente più a casa con lei e con il loro bambino e per fare un lavoro meno pericoloso e poi ti vai a mettere con un poliziotto che fa un lavoro ancora più rischioso del suo e quindi questo vuol dire essere incoerenti cioè quindi Eugenio li ha detti veramente a Viola di tutti i colori e queste parole sono praticamente il pensiero di tantissimi fan che stanno avendo in questo momento perché molti fan quando l'ho visto appunto Viola tradire Eugenio con Damiano molti fan hanno rifacciato a Viola proprio questo cioè il fatto che lei sia stata una persona incoerente perché abbiamo visto per mesi e mesi criticare Eugenio dall'addosso perché appunto faceva un lavoro pericoloso e poi ti vai a mettere con un poliziotto oltretutto in missione sotto copertura in un clan della Camorra e Viola questo lo sapeva benissimo che lui era un poliziotto infiltrato quindi veramente possiamo dire che il comportamento di Viola è stato alquanto insomma ci ha fatto alquanto riflettere ecco questo possiamo dirlo e Eugenio veramente questa situazione la sta vivendo veramente malissimo si vede che sta soffrendo tanto e però possiamo anche dire che diciamo noi fan non ci aspettavamo una reazione del genere perché noi abbiamo sempre visto un Eugenio abbastanza tranquillo, composto e ha sempre cercato di venire incontro alle esigenze di Viola il loro figlio e inoltre Eugenio è anche rifacciata a Viola che insomma lui è dovuto dimensionare un lavoro che amava per il bene suo per venire incontro a Viola e poi alla fine tutto quello che ha fatto non è bastato evidentemente quella del lavoro era soltanto una scusa ma non era il vero motivo della crisi e quindi veramente Eugenio si è sentito ancora di più ferito da tutto questo e possiamo anche dire che insomma comunque Eugenio non si meritava un trattamento del genere e mi dispiace tantissimo a vederlo così perché insomma secondo me Eugenio meriterebbe molto di più insomma di questo trattamento sicuramente anche perché sicuramente Eugenio l'abbiamo sempre visto come una persona che ha cercato di mantenere in piedi la famiglia appunto ha messo da parte anche una parte del lavoro che lui amava per cercare di salvare il matrimonio però insomma alla fine le cose non sono andate come lo sperava e adesso qui bisogna un attimino capire come si evolveranno gli eventi perché Viola adesso vorrebbe vivere subito subito la sua relazione alla luce del sole con Damiano però Damiano adesso ha deciso di stare accanto la sua ex moglie Rosa dopo che è stata ferita gravemente per salvare Damiano per salvargli la vita e quindi si vuole occupare di lei e di loro figlio di loro figlio quindi Damiano ha rassicurato Viola dicendole che prima cioè che per lui non è cambiato nulla che però adesso si deve occupare dell'altra sua famiglia diciamo così però Viola insomma vedremo come si svolgerà tutto quanto perché Viola non mi sembrava molto contenta sicuramente sperava di poter di avere da subito fin da subito l'appoggio di Damiano dopo appunto che Eugenio ha scoperto tutto quanto e ti raccomando scrivi nei commenti cosa ne pensi di questo comportamento di queste reazioni che sta avendo Eugenio dopo aver scoperto il doppio tradimento e scrivi anche secondo te come andrà a finire tra Damiano e Viola se pensi che sia una relazione che possa durare nel tempo ti raccomando iscriviti anche al mio canale YouTube e noi ci vediamo al prossimo video ciao